450 piante coltivate nelle diverse fasi della crescita per garantire un ciclo continuo nella produzione della marijuana e quanto hanno scoperto gli agenti del commissariato Trevi diretto dal dottor Lorenzo Suraci a conclusione di alcuni servizi antidroga svolti nelle vicinanze di Campo dei Fiori. È stato proprio grazie agli sviluppi investigativi di un'indagine su alcuni abituali utilizzatori di sostanze stupefacenti che i poliziotti sono riusciti ad individuare un produttore di peso nel mercato della capitale. Gli agenti lo hanno tenuto per diversi giorni sotto osservazione fino a quando hanno deciso di entrare in azione. Sottoposto ad un controllo mentre era a bordo della sua auto, il giovane ha mostrato da subito segni di nervosismo e insofferenza. A confermare i sospetti dei poliziotti e del dottor Mendolia che ha condotto le operazioni è stato un particolare. Quando hanno raggiunto una villa nella disponibilità del giovane in località Roccapriora è stata la potenza e il lampeggiare del contatore elettrico digitale posizionato all'interno di un apposito vano sul muro di cinta della proprietà e che segnalava di ridurre il carico. Una potenza eccessiva e non giustificata anche per quelli mobile di così grandi dimensioni. Quando sono entrati all'interno infatti hanno scoperto che il locale seminterrato e la manzarda erano state interamente dedicate alla produzione della marijuana, 450 piante. Nelle diverse fasi della crescita erano stati sistemati in appositi vasi, un impianto di irrigazione e areazione dei locali e poi lampade fertilizzanti, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento oltre ad una macchina per il sottovuoto. I poliziotti hanno anche sequestrato circa 800 grammi di sostanze stupefacenti già pronta per essere confezionata e distribuita. Al termine degli accertamenti il trentontenne romano con precedenti di polizia è stato arrestato per il reato di produzione e detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini degli investigatori proseguono per individuare eventuali relazioni tra il pusher ed altri collaboratori incaricati di distribuire il prodotto al dettaglio. Tra il materiale sequestrato è stato infatti rinvenuto anche un foglio riportante a notazioni di nomi e cifre di denari.